E allora anche quest'anno è giunto la... Scusate, ho sputato tutte le palle... Siamo giunti finalmente alla fine, anche quest'anno, quindi video ufficiale per farvi gli auguri di fine anno a voi che siete bravi, che siete i miei clienti, i miei discepoli, soprattutto a voi rosiconi, piangoloni metrosessuali, continuate a piangere sotto i miei video perché Claudio... e poi comunque sia vi voglio bene anche voi, questa è la verità, vi voglio bene, mi date un sacco di visibilità continuate così a piangere, ma soprattutto se volete iniziare a fare bonsai anche voi fate sul mio sito e compratevi qualcosa, ok? Così facciamo anche due soldi, oltre che prendervi a calci in culo tutte le volte detto questo, oggi piccolo video per quanto riguarda il boschetto andiamo a vedere 360 gradi, questo è il mio bosco di cipressi, lo conoscete, spero è una pianta che coltivo da seme, tra l'altro sta facendo i semi, guardate ok, c'ha le pigne e qua ci sono i semi, si vedono? Questa è una pianta che è nata dai semi, cioè non c'era, non esisteva, ho seminato acqua, concime, poi a un certo punto ho impostato i rami, come vedete adesso semino qui sopra, magari viene fuori, viene fuori, vado a completare sta pianta ecco qua, ok? E quindi da seme sono riuscito a tirar fuori, a differenza vostra, che non capito un cazzo di bonsai, continuate a scaccolarvi su dei ciclamini che fanno cagare io a differenza vostra costruisco, vado avanti, sapete perché? Perché faccio bonsai di lavoro ho partita IVA, ok? Non rubo niente a nessuno, col mio duro a nessuno, col mio duro lavoro vado avanti, ok? E sono il punto, ormai sono veramente diventato il punto di riferimento qui in Italia, tutti i giorni, 2-3 mila persone mi conoscono e vanno a vedere i miei video e molti di loro vanno sul mio sito, molti di loro mi scrivono e molti di loro, a differenza di qualcuno che piange solo, mi ringrazia, mi fa un sacco di complimenti e spende una gran badilata di soldi sul mio sito, ok? Per i miei prodotti che funzionano, che hanno un marchio registrato, a differenza delle cagatine che trovate in giro. Andiamo a vedere la pianta, scusate lo sfogo di fine anno, ma tranquilli, non ho finito, i vaffanculo devono ancora arrivare. Andiamo a vedere il mio bosco di cipressi, per quelli che dicevano che la pianta morirà, i prodotti pericolosi, ok? Pericolosi, ma perché? Ma perché? Guardate che roba, ok? Tutta verde, la pianta sta bene, tiranti, c'è qualche filo su e sta maturando. Ah, per quelli che si preoccupano per quanto riguarda la questione fioritura, i frutti, no? Perché il bonsai perde vigore, togli i frutti, togli i fiori, se no la pianta va in sofferenza. Ragazzi, è come con l'esposizione alla luce, nord, sud, ovest, l'acqua con l'osmosi, il pH. Ragazzi, se non sapete coltivare la pianta muore, punto, non è colpa di fiori, cioè se la pianta vi fa i semi, i frutti vuol dire che sta bene, cioè non è che se rimane, cioè come vedete le pigne io qua ce le ho, le ho lasciate tutte perché fa design, cioè è bello. Cazzo, ma sapete che soddisfazioni vedere un boschetto di cipressi tirato su da seme, ok? Pianta giovanissima, impostata, poi a un certo punto maturazione, poi a un certo punto fiori, poi, ma non capite un cazzo, cioè non capite veramente un cazzo, ok? Fiori, poi pigne, poi semi e da qui posso di nuovo seminare e tirare fuori un'altra pianta. Non è per portare avanti i sentimentalismi, ma riuscite a capire la soddisfazione che ho io in questo momento vedere la mia pianta che mi sta facendo pure i semi, i frutti, grazie ai miei prodotti, grazie al mio modo di coltivare che a differenza del vostro, ragazzi, è totalmente un'altra cosa. Ce la fate a capire sta cosa? Sentite i botti? Già voglio iniziare qui ragazzini, quindi chiudiamo questo video. Per quanto riguarda la potatura autunnale e invernale, ragazzi, c'è un videocorso che stasera poi non ci sarà più sul sito, ok? Quindi fate l'ordine, prendetevi sto video, vi servirà a voi, ok? Per iniziare a fare bonsai, non a me, a me non me ne frega un cazzo, cioè è un video che io metto gratis, cioè cosa c'è di così difficile nella parola gratis? Pensate sempre al secondo fine, alla truffa, al secondo fine è semplicemente farvi fare un ordine nel mio sito, acquisirvi come clienti, io sono qua per lavorare, io lo dico sempre, io sono qua per i soldi, se non ci fosse dietro la partita IVA, il mio lavoro e il mio successo, ragazzi, io non farei video su YouTube, non starei qua a leccarvi il culo come fancerti, cioè io non ho bisogno veramente del vostro consenso o di fare video per, oh perché a me piace fare video, a me, a me non piace fare video, io sono qua per mandare tutti a fanculo, per mettere le cose in chiaro e per dirvi tutte le volte che qui il numero uno sono io, numeri alla mano, quest'anno sono arrivato quasi a 10.000 clienti, ormai sul mio sito sono veramente in impennata, ogni anno, non dico che era doppio, ma sono lì e quindi prossimo anno, ragazzi, fate come volete, fate come volete, io sarò ancora più in alto e voi ancora più in basso perché tanto c'è poco da fare, qui il numero uno sono io, sapete come mi chiamano in Spagna? a me, è il Dio del bonsai, un saluto a tutti, fatevi una cazzo di risata e fatevi una cazzo di scopata ogni tanto, Cristo, cioè non si può dire niente che rompete i coglioni sotto i miei post, ragazzi, mi arrivano ondate di commenti, però non scelgo del bonsai, ragazzi, è finito anche quest'anno, io ho lavorato come l'anno scorso e come gli altri anni, sono sei anni che sono qui, non mi fermate, punto, è il mio mestiere, ragazzi, chi può fare bonsai in Italia? Io, perché io sono il Dio del bonsai, ok? Quindi anche per quelli che dicono, ah però te blocchi i commenti, ma io non sono qui per leggere i vostri commenti, non me ne frega un cazzo, io non sono qui per fare community, io odio leggere i commenti, io odio anche i complimenti, ok? Io blocco tutti, tutto, non vedete i commenti perché io non li leggo neanche, ho il filtro attivo, ogni tanto ci guardo e li blocco tutti, metto solo quelli che mi interessano, che mi piacciono, ok? Non è per nascondermi, è che non me ne frega un cazzo, sono qui per lavorare, non è una piazza aperta il mio canale, non è un posto pubblico, il canale è privato, è di Claudio Bonsai e io decido che cazzo fare delle mie cose, se per voi è importante questa cosa qui, andate a commentare in altri siti, in altri canali, non me ne frega un cazzo, sono qui per acquisire clienti, per vendere le mie cose ai miei clienti e per continuare a vendere i miei prodotti e i miei servizi ai miei clienti, ok? Quindi acquisisco, vendo e continuo a vendere, ok? Punto, per quelli invece che mi dicono, ah guarda adesso in crisi si è messo a vendere le piante, si è messo a fare workshop, no, non è così che funziona, ho aperto altri canali di vendita, altri servizi, perché me li stanno chiedendo, perché la gente vuole quello, io glielo do, se una persona vuole una pianta, io ce l'ho, gliela vendo, se una persona vuole impostare un bonsai e me lo chiede da mesi e se sei comportata bene, io gliela imposto la pianta, se mi paghi, ok? Quindi questo è semplicemente il fatto che io mi sto ampliando, sto lavorando sempre di più, a voi dà fastidio semplicemente, perché io in questi video faccio il coglione, eppure metto le cose in chiaro con i fatti, ok? Perché qui ragazzi, vi ripeto, se c'è un numero uno, questo sono io, in Italia la gente conosce me, non conosce voi, e se voi avete qualche visualizzazione sul vostro canale, è grazie a me, perché la gente parte da qui, ok? Fatemi una cazzo di vita, c'è nel prossimo video, video corso gratis, questo mese, scade stasera, fate l'ordine, non scrivetemi domani che volete questo video, perché vi è attaccata al cazzo, ok? Fine, non c'è altro da dire, c'è nel prossimo video, grazie mille a tutti, adesso do due tagli, sul cipresso ragazzi è difficile fare la potatura, perché intanto dopo una settimana o due ragazzi riparte e si riempie di nuovo, quindi per quelli che mi dicono è troppo piena la pianta, ma sì, ma va bene così, ma non mi interessa avere la rifinitura precisa e perfetta su questo tipo di materiale, non lo devo portare in mostra, mi interessa che la pianta stia bene, mi piace, è bellissima, non ce l'ha nessuno, non ci prese così, quindi smettetela di criticare, cioè guardate che roba, voi non vi rendete conto di quello che dite, qual è il problema? Siete all'inizio, molti di voi vogliono già fare i maestri, purtroppo ragazzi dovete calare alle ali, perché tanto i soldi a voi non ve li danno, perché tanto si vede subito quando una persona ha delle competenze, magari per simpatia, un po' di elemosina, sì, un euro, un euro all'anno, due spicci, sì, però le persone ragazzi si fidano soltanto dei professionisti, io non avrò un diploma dove c'è scritto che io ho frequentato un corso ufficiale della scuola, ragazzi non ne ho bisogno, punto, anzi dovrei essere io quello a dare i diplomi alle persone e a formare le persone, perché quelli, come voglio imparare a fare bonsai veramente ragazzi, è meglio che iniziano a prendere la mia strada piuttosto che le altre, perché come vedete in giro ragazzi, se tutti guardano i miei video e tutti sono qui a guardare, a sbavare, un motivo ci sarà, io non apro una scuola semplicemente perché non me ne frega un cazzo e non voglio riempirmi di gente qui a casa mia o nel mio posto, ok? Io voglio lavorare online, ogni tanto faccio un open day, uno all'anno, due all'anno, non magari anche tre all'anno, perché vedo che aumenta sempre più il numero di persone disponibili a fare questa cosa e lo faccio gratis, soltanto alle persone che se lo merita, ok? Chi invece non se lo merita andate a fare il corso, lì mi vai e vedrete dopo due tre anni dove siete, siete soltanto al punto di partenza, perché quella gente lì non sa fare bonsai, ok? Ricordate sempre ragazzi, di dio del bonsai ce n'è uno solo, nel 2023 ho fatto un culo così a tutti, ho messo tutti a sedere, proprio come gli altri anni, ho sputato di nuovo e il prossimo anno sarà uguale, ok? Il mio obiettivo non è discutere con voi che non capite un cazzo, ma è semplicemente portare avanti la mia azienda, io sono qui per lavorare. Purtroppo in Italia c'è questa cosa qui, chi lavora è intorto, bisogna vergognarsi di lavorare, chi invece chiede l'elemosina, allora poverino, poverino, però soldi non se ne fanno così, io sono qui per fare i soldi, è ovvio, anche per quelli che mi dicono amo i tuoi prodotti costano tanto, ragazzi io devo guadagnare, non posso regalare il mio culo a voi che tanto volete spendere solo sempre un euro in meno, perché se io domani sto prodotto lo metto 5 euro, rompete il cazzo perché lo volete a 4, questa è la verità, se c'è qualità il prezzo è più alto, se non avete 20 euro fate vincolare, ok? Io non posso stare dietro ai barboni e alla gente che ha le mani attaccate alle orecchie o alle spalle così, non imparerete mai a far bonsai in questo modo, ok? E quindi, buon anno a tutti, buon fine anno, buon inizio, non ce l'ho con nessuno, smettetela di replicare, di scrivere, no, beh dai fatevi una cazzo di risate una volta, è un video su youtube, se vi piace guardatelo, fatevi una risata, fatevi una scopata, per favore ogni tanto, perché siete troppo tesi e soprattutto se i miei video non vi piacciono, potete tranquillamente andare a farvi fottere, ok? C'è la X qua sopra nel vostro computer, nel cellulare, cliccate, uscite, siete a posto, io i video che non mi piacciono non li guardo, ok? Punto, non è che devo perdere la mia vita lì a, però hai detto l'altro giorno, hai bloccato il mio commento, sì, io blocco i commenti, perché non ho voglia di stare dietro ai bambocci, non ho tempo da perdere dietro a questi giochini da influencer, social media, io odio avere a che fare con le persone, sono fatto così, di natura, ok? Se vi va bene, bene, se non vi va bene, va ancora meglio. Ciao a tutti, diffondete il verbo, ok? Mettetemi in prima pagina dappertutto, finché riuscite, come avete fatto fino adesso, in questi anni, avete visto che io sono ancora qui e sto sempre meglio, questo mi serve per avere più visibilità, quindi voi siete un tassello fondamentale del mio video, funziona come in politica, no? Tutti parlavano da male di Berlusconi, adesso Poraccio è morto, però come avete visto per vent'anni ha fatto il culo così a tutti, punto. Quello è andato di fatto, ok? Funziona così, non ci posso fare niente. Sono il numero uno, ho vinto quest'anno, vincerò nel 2024, vincerò nel 2025, mi tocco i marroni perché... Grazie mille a tutti, passate buone feste con i vostri familiari, passate un buon anno e scopate, cazzo, cioè perché non si può dire? Se siete gay, fatevi... C'è nel prossimo video, ciao ragazzi, ciao a tutti, fate i bravi.